La verità è che il fatto che si possa avanzassero dei soldi per estinguere dei debiti in maniera anticipata e che ce ne siano ancora molti altri, perché noi faremo una variazione di bilancio molto ricca per il nostro comune tra qualche settimana, cosa significa? Significa soprattutto che negli ultimi anni non si è speso. Cioè la notizia negativa, dietro questa notizia apparentemente positiva, e che in parte lo è, perché ripeto abbiamo tutti un debito minore, abbiamo circa 200 euro a testa di debito come cittadini triestini, molto meno di altre città, ma la notizia invece negativa è che questi soldi avanzano perché negli ultimi anni non sono stati spesi. Perché non sono stati spesi? Ma è abbastanza evidente, noi abbiamo un sindaco che negli anni è stato famoso per le cose fatte, il sindaco del fare, negli ultimi anni, dello scorso mandato e anche di questo, è un sindaco che ha visto bloccarsi tutte le opere pubbliche a Trieste, pensiamo al tram, pensiamo alla piscina terapeutica, pensiamo alle operazioni sulla fiera, pensiamo a come sono ridotte le strade triestine, i marciapiedi di Trieste e quindi avanzano dei soldi. E poi voglio ricordare una cosa molto semplice all'assessore Bertoli, se oggi il Comune può fare quell'operazione, e anche grazie al fatto che le tasse, e lo dico a un'amministrazione di destra che sulle tasse insiste sempre, le tasse di Trieste, quindi i cittadini che pagano, sono le più alte della regione, sono al massimo, l'addizionale IRPEF a Trieste è al massimo, quindi diciamo oggi l'assessore ha le tasche piene, ma ha le tasche piene perché ha un po' vuotato le tasche di Triestini.